Ci sono a Marina di Massa e pensate un po', sono sopra una terrazza di un palazzo altissimo che è stato costruito negli anni 30, proprio sul mare, e vede sia il mare che è, come vedete, dietro di me, che la montagna invece, dove ci sono ovviamente le cave di marmo, marmo di Carrara, solo là. Veramente stupendo, pensate un po', negli anni 30. Ciao!